Nel campo delle canne Trabucco, dedicate espressamente alla pesca alla trotto in lago, Activa è la serie che rappresenta il primo gradino nella scala delle attrezzature di qualità. La serie è composta di 10 canne che permettono di coprire tutte le distanze e tutte le profondità nei laghetti di pesca italiani. Perché 10 canne? Le canne sono tutte diverse proprio perché a una determinata distanza o profondità la canna che dobbiamo utilizzare deve essere la più sensibile possibile. Pertanto le combinazioni di lunghezza e di sensibilità vanno dai 4 metri della ULLS che è in grado di lanciare piombini fino a 3 grammi di peso per arrivare alla 4,50 mh che gestisce bombarde dai 15 ai 30 grammi di peso. Le canne Activa sono strutturate con un carbonio di qualità e hanno un profilo super slim, cioè sono estremamente magre per essere molto maneggevoli e anche molto leggere. Le impugnature delle canne Activa sono rivestite da uno speciale vernice gommata Sensi Touch che le rende particolarmente confortevoli. Gli anelli sono di qualità particolarmente elevata, il loro telaio in acciaio ha una struttura AY che smorza le vibrazioni e li rende particolarmente rigidi e resistenti. Gli scorrevoli sono tutti ad incastro e legati sul tubetto. Per una immediata identificazione dell'azione di ogni singola canna l'impugnatura delle Activa porta delle bande colorate. Una specifica interessante in chiave agonistica è lo spazio Info, una zona dell'impugnatura dove possiamo annotare con un pennarello indelebile le caratteristiche della montatura che stiamo utilizzando, ad esempio il peso della bombarda o la misura del lamo. Al termine della gara con un batuffolo imbevuto di alcol potremo cancellare tutto ed essere pronti per la gara successiva.